caro gabriele ho l'impressione che siamo in diretta intanto ti saluto e saluto il pubblico che pian piano si coagulerà attorno a questo a questo meta schermo nei loro schermi torniamo dopo un po di tempo torniamo per un motivo speciale per un'occasione speciale che si vince dal terzo riquadro che sta sotto di noi come si dice ogni tanto gabriele siamo nani sulle spalle di un gigante quindi lo salutiamo e ringraziamo diciamo in anteprima il dottor recalcati massimo recalcati per la generosità benvenuto buonasera grazie per l'invito buonasera buonasera a lei dicevamo scamera gabriele e in qualche modo tendendo un agguato al professor recalcati che diciamo si immaginava di avere delle persone serie davanti che in realtà la trasmissione segue una un orientamento punk però tende diciamo voler entrare a fondare una serie di problemi in maniera specifica allora professore calcati è come dicevamo un grafomane cioè scrive tantissimo lo abbiamo contattato un po di tempo fa con un interesse specifico cioè l'interesse verso questo suo volume che vedete qui ritorno a jean paul sartre esistenza infanzia desiderio un volume uscito nel 2021 per einaudi nello specifico per la piccola biblioteca einaudi e quindi stiamo parlando di un volume che ha un taglio specifico cioè un saggio scientifico un saggio scientifico con tutti i crismi e anzi una lettura senz'altro non semplice che però non è un libro fra i libri è un libro che ha una sua che nella vasta opera recalcatiana in qualche modo si fa come collettore di una serie di ossessioni e compulsioni del dottore calcati in qualche modo è un libro che ha una parte da una verve autobiografica cioè qui abbiamo il recalcati più più filosofo memore della sua formazione memore dell'opera sartriana che dice con una certa anche vena polemica essere un'opera oggi forse un po' dimenticata forse un po' caduta in disuso non si studia più così tanto sartre e forse si studia ancora meno quel sartre che interessa recalcati che è uno dei possibili sartre il sartre che è diciamo parte dalla nausea che è interessato a questioni che in qualche modo si intersecano con interessi più semiotici o semiopili cioè in che modo l'esistenzialismo è forse limitato dalla dalla visione strutturalistica da questa volontà di ingrigliare il reale che ci dice recalcati è qualcosa di diverso dalla realtà è un luogo qua traduco professore naturalmente avrà poi tutto il margine per correggere le mie diciamo improprietà ma sembra di intendere il reale come un luogo dell'insensatezza come un luogo in cui il senso si sprange un luogo necessario e non necessario in un connette a una fase che non è soltanto una fase della vita cioè l'infanzia ma che è un tempo lui usa spesso questa idea cui si ritorna in maniera spira spirale forme andando avanti ma nel contempo retrocedendo trasformando in eventi specifici fatti della vita che in qualche modo retrocedono in questo senso le proprie cause ecco anche perché in questo libro che parte quindi dal tema dell'esistenza si va poi con un salto che a me sembra in qualche modo semiologico alla biografia no si si va a leggere la biografia di genè ma soprattutto il lavoro biografico che fa sartre su su flaubert no l'idiota della famiglia questo valore dell'altro e qui il grande polo che dialoga con sartre nel libro cioè jacques locan l'altro come linguaggio che ti predetermina ma che non ti determina anche anche qui è molto complesso il libro in che senso il determinismo cioè fino a un certo punto sembra dire mi sembra di leggere un sartre molto determinista ma poi invece a un certo punto questo determinismo viene distrutto da un margine di libertà specifico e quindi un libro che ci mostra anche una una malleabilità di sartre nella sua speculazione filosofica una sua un percorso evolutivo e vado a chiudere con questa introduzione che è gioco forza parziale lo dicevo di nuovo prima recalcati off camera è interessante perché questo è un libro di teoria di teoria hardcore di teoria spinta però sì vi si legge un orientamento euristico un orientamento operazionale cioè sembra in qualche modo di leggere il lavoro che recalcati fa come premessa metodologica quando deve affrontare nel suo lavoro di psicanalista l'esistenza di un paziente cioè il punto di partenza in qualche modo nel definire un certo tipo di approccio clinico ma questa è una mia congettura naturalmente avremo tempo e modo di parlarne io non voglio occupare ulteriore tempo ringrazio eh le spettatrici e gli spettatori che man mano si stanno accalcando eh di fronte ai loro schermi e lascio la parola a Gabriele per introdurci questo massimo recalcati che eh uno potrebbe guardarlo e dire ma chi è costui grazie a Bruno grazie a tutti voi che siete online grazie al dottor recalcati che ha accettato questa questo agguato questa trappola semiotica come diceva Bruno noi dottore parliamo sempre un po' cioè ci diluiamo molto nell'introduzione così la gente vede che la diretta è partita e quando poi riesce a seguire sente recalcati e non sente marino e surace questa è un po' la strategia ehm appunto io introduco recalcati a me diverte fare queste cartoline alla Andrea Barbato per chi si ricorda quella bella trasmissione non mi riescono come quelle di Andrea Barbato come profili anche perché lui solitamente era polemico però insomma eh ci interessa come diceva Bruno ricostruire un attimo la biografia eh come dire scientifica e non solo di recalcati alla luce di questo libro che ci interessa tanto per ovvi motivi ma poi spiegheremo quali sono questi ovvi motivi allora filosofo psicanalista milanese intellettuale pubblico fra una manciata di giorni e il suo compleanno recalcati studia alla statale di Milano con Franco Ferniani su cui torneremo a sua volta allievo di Antonio Banfi guarda caso siamo negli anni ottanta alla metà degli anni ottanta la tesi di filosofia di recalcati è su Sartre in particolare i rapporti possibili tra Sartre e Freud quindi vedremo che c'è un uno sbilanciamento un riposizionamento da questo punto di vista con questo testo di cui parliamo oggi e a partire dal quale parliamo specializzazione in psicologia sociale e poi vabbè tutte le attività che conosciamo di recalcati figura pubblica ma non solo quindi l'attività clinica le docenze universitarie le pubblicazioni scientifiche non solo consulente consulenze interventi pubblici progetti artistici impegno politico eccetera eccetera da un punto di vista clinico l'inizio come dire del percorso di recalcati come psicoanalista è molto concentrato sulla questione dei disturbi alimentari le dipendenze e poi tutta una serie di figure che lui stesso ma non solo definisce nuove figure della clinica fino a un tema come dire classico classicissimo direi che ha a che fare diciamo con l'evoluzione del soggetto nella tarda o nella iper modernità fino ad arrivare a questo famoso direi celebre complesso di telemaco che aggiorna diciamo i classici della psicoanalisi per quello che riguarda la dissoluzione della figura del padre arriviamo al nostro sartre il libro che presentiamo oggi è stato tra l'altro premiato ad udine come come dire libro filosofico dell'anno 2021 ma c'è tutto un retroscena che si intuisce appunto fin dalla questione che abbiamo appena tirato fuori della tesi e della formazione filosofica di recalcati cioè recalcati tra le tante cose dirige una collana feltrinelli che si chiama eredi non a caso anche questo qua diciamo dal padre all'eredità è un tema che ricorre sempre nelle opere di recalcati dirige una collana che a noi è molto cara perché ospita la monografia di claudio palucci su umberto eco di cui abbiamo parlato diciamo in maniera estensiva ma non a caso nel 2019 pubblica o meglio ripubblica franco fregnani su sartre con introduzione appunto in qualche modo diciamo curatela di recalcati quindi adesso stiamo parlando noi da nove minuti direi che potremmo fare sentire la voce di recalcati noi siamo semiologi la semiotica per grande parte deriva da quella cosa ingombrante e importante che è stato lo strutturalismo che ha avuto in sartre nell'esistenzialismo nell'umanessimo diciamo sartreano un totem polemico importante e viceversa pensiamo a testi di sartre come lo scrittore e la sua lingua l'antropologia non le interviste in cui si problematizza il passaggio di staffetta la frizione tra esistenzialismo e strutturalismo sartre negli anni 60 era un moloch intoccabile del pensiero francese non solo e poi a un certo punto come dice a pagina 2 del libro in qualche modo in qualche decennio è stato spazzato via da strutturalismo e post strutturalismo fino a diventare verbatim un cane morto ecco sartre è scomparso dai discorsi perché sartre è scomparso dai discorsi e perché ha senso riprenderlo oggi in una chiave che poi andremo approfondendo come dire passo dopo passo intanto buonasera a tutti e grazie di nuovo per questo invito vado dritto alle prime questioni che avete sollevato perché sartre è diventato un cane morto beh perché diciamo il pensiero filosofico ha imboccato da una parte una via tracciata da heidegger che collocava diciamo ogni forma di pensiero del soggetto all'interno di una cornice metafisica e per cui il giudizio di heidegger ha come dire stroncato la filosofia di sartre riducendola diciamo così ad una rappresentazione umanistico metafisica della soggettività e dall'altra parte insieme appunto al colpo inferto da heidegger e dall'heideggerismo dall'altra parte lo strutturalismo ha evidentemente compromesso alle radici la concezione sartreana del soggetto mostrando come dire che non c'è libertà nel discorso ma che diciamo così l'intenzionalità del soggetto è innanzitutto intenzionata dalla presa discorsiva in cui essa si trova ogni volta questo spiega diciamo così una caduta nell'oblio del pensiero di sartre io ritengo invece ed è per questo che ho insistito veramente con un forcing anche soggettivo dispendioso presso l'editore saggiatore perché venissero ripubblicate le grandi opere di sartre ho curato personalmente l'introduzione all'idiota della famiglia che come è stato notato è come dire il mio focus attraverso cui rileggo tutto sartre l'operazione dal punto di vista testuale e metodologica che io compio è prendere l'idiota della famiglia che è un'opera dell'ultimo sartre siamo nei primi anni 70 e a partire da questo vertice rileggere diciamo tutto sartre così come ho insistito ed uscirà all'inizio del 23 la nuova edizione con la traduzione di Franco Ferniani dell'essere il nulla di cui anche in quel caso ho curato diciamo l'introduzione lo stesso vale per la ripubblicazione recente della grande opera su Genè insomma mi sto facendo promotore di una rimessa in circolazione diciamo delle categorie, delle parole, dei temi sartreani mi soffermerei intanto sulla questione che mi sembra colleghi i due interventi che mi hanno introdotto sulla questione del determinismo perché è centrale sia in generale per il contributo che Sartre può dare alla psicoanalisi come Bruno mi chiedeva sia più nello specifico per cogliere il rapporto tra Sartre e lo strutturalismo allora sul determinismo ci sono due movimenti che Sartre compie in momenti differenti della sua opera il primo movimento è quello che trova diciamo così la sua coagulazione teoretica nell'essere il nulla quando Sartre parla di Freud e accusa apertamente la psicoanalisi to cure e Freud in quanto padre della psicoanalisi di determinismo e cioè di un determinismo, questa è la formula di un determinismo verticale che comprometterebbe diciamo così la dimensione estatica della soggettività cioè la sua trascendenza, la sua progettualità nella misura in cui appunto è il passato che verticalmente condiziona il tempo presente e riduce la possibilità di gioco dell'avvenire il determinismo freudiano sarebbe un determinismo archeologico fondamentalmente cioè il passato che coincide con l'infantile questo è importante per me perché tutto il lavoro che ho fatto è sottrarre l'infanzia a questa concezione causalistica persino fisicalista a volte che Freud ha del passato l'infanzia coinciderebbe con un luogo di una causa prima il senso proprio aristotelico di una causa efficiente che determinerebbe l'essere della soggettività per cui non ci sarebbe possibilità di libertà da questo punto di vista il Freudismo agli occhi di Sartre è una negazione della libertà il passato determina in modo inesorabile diciamo così il futuro Sartre parlerà di un crampo meccanicista che caratterizza il pensiero di Freud e allora il primo movimento che Sartre compie sul determinismo è sottrarre la soggettività dall'archeologia freudiana e come la sottrae? La sottrae mostrando che la temporalità che istituisce il soggetto non è a che fare con nessuna causalità efficiente non è una temporalità archeologica ma è una temporalità che si istituisce sulla legge dell'apre-q quindi della retroazione è una temporalità che si costituisce sul futuro anteriore questo è il primo grande, grandissimo debito che Lacan ha con l'operazione di Sartre perché siamo agli inizi degli anni 40 Lacan formalizzerà in funzione campo che è il suo testo manifesto del 53 questa temporalità come al futuro anteriore ma è una ripresa evidente della idea sartreana della temporalità come movimento di risignificazioni successive di ciò che è già accaduto per cui diciamo l'estasi fondamentale della temporalità non è più il passato ma è l'avvenire l'avvenire che produce appunto significazioni singolari del tempo passato e istituisce fondamentalmente il tempo storico il tempo storico è il prodotto di una retroazione significativa diciamo così e non è appunto causato dal passato il passato è un prodotto diciamo così di una significazione retroattiva questo è fondamentale nella pratica della psicoanalisi Bruno mi chiedeva non c'è possibilità di pensare alla psicoanalisi se non a partire dal fatto che la parola la funzione semiotica della parola per la psicoanalisi è fondamentalmente una funzione di risignificazione del passato cioè di creazione del passato non solo di rivelazione ma proprio di creare il potere creatore dell'inconscio direbbe Andre Green che tra l'altro è stato appunto un allievo di Lacan quindi il primo movimento consiste nel come dire decostruire la temporalità archeologica di Freud per introdurre la temporalità della pre-cu come tempo del soggetto che esalta la funzione usiamo proprio il termine tecnico che Sartre comincia a utilizzare già nell'essere nulla e che espanderà e valorizzerà ulteriormente nell'idiota della famiglia che è un termine che gli proviene non dalla tradizione dialettica ma dalla tradizione esistenzialista kirchegardiana che è il termine ripresa il tempo del soggetto si costituisce come un tempo di ripresa continua prodotto da continue e risignificazioni di ciò che è stato questo comporta anche una certa concezione della storia quella che nella critica della ragione dialettica Sartre definisce come l'histoire perforée cioè la storia è perforata è lacunosa non è una legge inesorabile non è ripetizione di ciò che è già stato ma è appunto il prodotto di questi movimenti continui spiraliformi di risignificazione questo è il primo passaggio poi che cosa accade? accade che si afferma lo strutturalismo e lo strutturalismo è uno straordinario aggiornamento del determinismo potremmo dire così molto in sintesi che mentre il determinismo freudiano è un determinismo archeologico il determinismo strutturalista soprattutto quello che interessa Lacan per esempio è un determinismo significante quindi il significante va a prendere il posto dell'infanzia diciamo mentre per Freud ciò che determina l'esistenza è l'infanzia cioè il passato infantile proprio il rimosso come infantile per lo strutturalismo ciò che determina la soggettività è ciò che accade nell'altro cioè la catena significante diciamo per dirla molto in breve cioè l'azione del significante sul soggetto è il taglio del significante la funzione letale insomma ci sono diverse formule con cui Lacan teorizza questo determinismo che però diversamente dal determinismo freudiano non è un determinismo chiuso ma un determinismo aperto perché il significante rappresenta il soggetto per un altro significante secondo uno slittamento metonimico che dunque prevede sempre la possibilità di risignificazioni a pre-Q terzo ultimo movimento qual è la reazione di Sarr nei confronti dello strutturalismo ripensare il determinismo e come ripensa il determinismo poiché non può più valere quella concezione della soggettività come libertà che lo strutturalismo ha messo radicalmente in crisi mostrando che c'è una come dire prevalenza dell'altro rispetto al soggetto che la funzione della parola dipende dal sistema del linguaggio detto in modo sassuriano classico che è il sistema della lingua da cui dipende la funzione singolare della parola ecco rispetto a questo l'operazione di Sarr consiste intanto nell'aprire di nuovo il testo di Freud e quindi c'è un nuovo ritorno a Freud di Sarr rispetto al Freud liquidato come archeologico nell'essere il nulla e c'è soprattutto una rilettura del materialismo storico quindi un ritorno a Marx in questo movimento ritorno al testo di Freud ritorno al testo di Marx Sarr si dà degli strumenti per ripensare il determinismo e qui si apre la partita teorica più interessante che poi attraversa tutto il libro cioè che cosa diventa il determinismo nell'ultimo Sarr in particolare qui vado rapido vi do solo una formula perché ho già parlato fin troppo nell'idiota della famiglia l'idiota della famiglia si apre con questa grande questione che Sart dice così mi interessa indagare e rispondere a come è stato possibile che un idiota sia diciamo lo scandalo di un idiota che diventa un genio questo passaggio come è possibile che laddove la costellazione fatidica che ha determinato le condizioni dell'infanzia di Flaubert lo prevedeva idiota quindi come dire il destino che l'altro a cui l'altro ha consegnato il piccolo Gustave era il destino dell'idiota così come il destino a cui il piccolo Genè è stato consegnato era il destino del ladro come è possibile che il ladro diventi un poeta e come è possibile che l'idiota diventi un genio Sart chiama questa possibilità trasformativa il petit décalage cioè quel movimento che riprende singolarmente le condizioni etero determinate della soggettività quindi potremmo dire che riprende i significanti dell'altro che hanno determinato la vita del soggetto li fa propri in un movimento di interiorizzazione dell'esteriorità ma questo non non determina come dire una causalità efficiente ma produce un'invenzione la cosa interessante quando Sart si interessa del determinismo l'ultimo Sart si interessa del rapporto tra ripetizione e invenzione cioè non si può sfuggire dalla ripetizione ecco se volete il marxismo il freudismo di Sart non si può sfuggire dalle nostre condizioni economiche sociali che la struttura nel senso marxista del termine ha imposto non si può sfuggire dalla costellazione fatidica per usare un'espressione che si trova in funzione campo di Lacan il bambino viene al mondo questa costellazione fatidica non dipende dal bambino non è l'effetto di una scelta è una condizione data dall'altro al tempo stesso il soggetto ha sempre la possibilità di riprendere in modo singolare queste determinazioni quelle che Sart chiamerà le essenze storico-materiali come dire prima ci sono le essenze storico-materiali e l'esistenza è un effetto di questa essenza vedete come la tesi dell'esistenzialismo classico è totalmente decostruita non è l'esistenza che precede l'essenza ma sono le essenze storico-materiali linguistiche che precedono e determinano l'esistenza allora il punto su cui io insisto che quello che mi interessa di più è che questa trasformazione dell'idiota in genio del ladro in poeta non è una cancellazione dell'infanzia cioè il ladro non si emancipa scusate il poeta non si emancipa dal ladro il poeta non è l'emancipazione del soggetto dalla sua identificazione primaria al ladro così come il genio non è un'emancipazione dall'idiota allo stesso modo per cui il poeta non è l'attività contrapposta al ladro come sintesi passiva diciamo così in senso usserliano allo stesso modo non c'è la passività dell'idiota che troverebbe nell'attività del genio il suo riscatto ecco questo è un modo metafisico di porre le cose per Sartre il problema è che il genio diventa tale radicalizzando l'idiozia dell'origine il ladro diventa poeta radicalizzando la sua posizione di ladro questa radicalizzazione è una sorta di consegna del soggetto ad una sorta di destino che fa che porta Sartre a evocare il termine cristiano su cui ho fatto un lavoro a parte che spero prima o poi di pubblicare il termine cristiano di predestinazione qual è la differenza tra la predestinazione e il determinismo è che la predestinazione su cui Agostino appunto in particolare ha scritto pagine fondamentali mostra certamente che la salvezza non può essere raggiunta attraverso la libertà semplicemente ma implica un elemento di grazia nel linguaggio teologico cioè un elemento di sorpresa una visitazione imprevedibile qualcosa di insondabile e questo elemento discontinuo di sorpresa di grazia di insondabile che consente questa operazione di torsione della idiozia in genialità si tratta dunque di una torsione non di un'emancipazione questa torsione è l'elemento che mi interessa perché è una contingenza tanto quanto diciamo così l'elemento dell'essere ladro e dell'essere idiota è una qui uso un'espressione di Sark che Lacan ha ripreso è una pietrificazione del significante cioè un significante che si slaccia dalla catena e in modo lofrastico diciamo così inghiotta il soggetto Genet è ladro prima di essere ladro Flaubert è idiota prima di essere idiota il significante lo sequestra diciamo perché è un significante che è fuori dalla catena Lacan lo descrive appunto come un significante olofrastico è il concetto di lettera per Lacan cioè qualcosa un significante che è asemantico per così dire quindi fuori dal senso è un significante che è reale allora il reale non indica solo sfrangiamento del senso ma il reale è anche il trauma in quanto inassimilabile ladro è quello che Lacan descrive come una parola proiettile cioè la parola che crivella la superficie del soggetto non è più la parola come appunto una funzione dialettica ma è la parola come colpo come urto come appunto proiettile che crivella la soggettività e crivellandola le dà una forma ecco questo è il punto che mi interessa di più dunque petit décalage non è liberazione la libertà non è liberazione dalla nostra condizione di assoggetti di assoggetti come dice Lacan ma è la possibilità di una conversione tra l'altro conversione è una categoria sartriana non è solo una categoria agostiniana quindi questa conversione è l'elemento che a me interessa di più e che è molto utile alla psicoanalisi per evitare che interpreti lo strutturalismo in modo ontologico cioè che trasformi la struttura in una categoria ontologica diciamo forse ho preso troppo tempo scusate ha preso il tempo che è necessario però io a questo punto continuerei a fungolarla rispetto a questo suo interesse specifico che emerge nel libro nei confronti del petit décalage dello scarto cioè direi di quell'attimo in cui c'è una esorbitanza una protuberanza rispetto a quella predestinazione che è in qualche modo sancita dall'infanzia il momento in cui si è prelinguistici e quindi si è nel libro si parla anche molto dello stadio dello specchio in cui si è prodotto esclusivo dell'altro perché è il punto cioè il punto è esattamente questo il punto è il momento in cui come dice lei il soggetto non si emancipa ma in qualche modo si libera passa da idiota a genio passa da ladro a scrittore ed è il momento che in semiottica chiameremmo dell'alternativa cioè in cui si può avere esperienza di un'alternativa di sé specifica allora io intanto sto prendendo anche nota dei commenti delle domande che poi sicuramente le riporteremo però è interessante perché da un lato come dire si chiudono le porte allo strutturalismo come griglia stitica in un certo senso incapace di incapace di rendere conto dell'esorbitanza di questo di questa scintilla dell'imperfezione che in qualche modo è direi lo spazio di manovra attraverso quale attraverso il quale si può essere cioè si può fare qua cito dal libro si può fare qualcosa di ciò che è stato fatto di noi in un certo senso e però ciò è possibile cioè il punto qua il punto è quasi epistemologico cioè c'è una escatologia dietro questo pensiero c'è un'idea salvifica dell'esistenza c'è uno spazio attraverso cui ci si può salvare da quella che altrimenti è l'esistenza insensata di Achille figlio di Achille che è come clonato non può che replicare i suoi errori e quindi farsi erede sterile farsi erede anoressico che ha questa anoressia della parola che non è che non è ebete come ebete il piccolo Gustavo ma che in qualche modo è meno e men che ebete non è nulla questo tipo di discorso si esprime attraverso l'impostazione sartriana e poi lacaniana e poi in qualche modo quella che lei assume che sussume attraverso delle opposizioni c'è un'archeologia conservativa e c'è un'archeologia germinativa c'è un reale e c'è una realtà c'è sempre in qualche modo una distinzione tra spazio in cui trovare del senso e spazio luogo dell'insensatezza della necessaria insensatezza a me sembra molto strutturalista questo tipo di di impostazione cioè mi sembra il buono l'esorbitante dello strutturalismo che in qualche modo si prende che alla fine mi sembra un atto di fede cioè l'impostazione sartriana mi pare profondamente apodittica ma questo l'apprezzo cioè a un certo punto sartre nel suo percorso pur contraddicendosi man mano che lo evolve non dice come le cose sarebbero dice come le cose sono è così è così perché in qualche modo a quel livello di di riduzione massima di ricerca dell'origine prima della libertà non si può che assumere un portamento assiomatico e e poi chiuderei dicendo che lo si fa nello spettro spiraliforme forse ellittico che parte dall'infanzia l'origine prima e arriva all'eredità in qualche modo lo sviluppo post mortem no un'eredità che di nuovo nella nella prospettiva che che ci che ci è proposta è un'eredità ribaltata non è un'eredità come rendita ma è un'eredità come eresia no come qualche cosa che bisogna ridiscutere che bisogna convertire e quindi non so se quello che le ho detto è una domanda o un'osservazione o una proposta ma se ha voglia di concludarla o di lavorarci l'ascoltiamo posso 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 fare un micro intervento pillola su 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 una delle cose che ha detto lei recalcati sulla io semplifico cioè riformulo in modo mio la retorazione la paradossale retorazione del futuro sul passato questo è un concetto che cioè noi facciamo sempre anche un po' di note come dire a piedi pagina semiotiche questo da un certo punto di vista per quello che può riguardare noi è un po' Peirce no cioè che è il futuro influenza ma anche forse però qua mi sto avventurando troppo diciamo per le mie competenze c'entra un po' anche la questione della ripresentificazione in qualche modo forse di 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 Husserl ma quello che volevo dire soprattutto è perché abbiamo fatto questa puntata con recalcati su Sartre Bruno è partito parlando di come dire un filo rosso di nucleite diciamo di isotopie ossessive in senso fertile nell'opera di Recalcati che qua si ritrovano sostanzialmente tutte guarda caso ripensando e ripartendo da Sartre a me è una cosa che affascina molto che è il motivo per cui come dire da profano mi divertiva l'idea di come dire di accogliere il punto di vista psicoanalitico c'è un problema che la semiologia dello strutturalismo ha da un punto di vista ontogenetico cioè poi diventa altro quelli che hanno fondato la semiologia Roland Barthes Giulia Cristeva a un certo punto siamo negli anni 70 guarda caso si interessano proprio di psicoanalisi e di marxismo nell'intreccio tra le due cose e poi appunto arriva la canna con tutto quello che comporta questa è una cosa come dire da un punto di vista della storia del pensiero a maglia larga vista dall'alto secondo me particolarmente interessante quindi il motivo duplice per cui ci interessa questo tipo di riposizionamento recalcatiano di Sartre è squisitamente semiotico anche visto le questioni che abbiamo tirato fuori ma questo era un inciso e quindi come dire ridò la parola muta a Bruno e quindi a recalcatico allora se dovessi riassumere la domanda le domande che mi sono state rivolte direi che è l'esigenza di un supplemento di riflessione sul rapporto tra soggetto e struttura fondamentalmente perché nello strutturalismo ma anche nello strutturalismo di Lacan il soggetto è innanzitutto diciamo così un effetto della struttura da questo punto di vista Lacan sottolinea l'omologia tra il soggetto e il significato tanto quanto il significato come dire è l'esito della relazione del rapporto tra i significanti quindi il significato non sarebbe più ciò a cui il significante rinvia ma sarebbe il prodotto del rapporto tra i significanti allo stesso modo il soggetto sarebbe il prodotto qui lo cito proprio di ciò che accade nell'altro da questo punto di vista c'è un'omologia tra la posizione del soggetto nello strutturalismo di Lacan e quella del significato al tempo stesso però il soggetto è anche ciò che Lacan lo dice con delle variazioni terminologiche ma insomma la sostanza è questa che se da una parte il soggetto dipende da ciò che accade nell'altro cioè appunto è un effetto del concatenamento dei significanti al tempo stesso è anche una lacuna all'interno dell'altro cioè ciò che l'altro non afferra mai come dire che c'è una trascendenza interna del soggetto nel campo dell'altro da cui esso stesso si costituisce quindi da una parte il soggetto dipende dall'altro ma non c'è nell'altro un significante in grado di come dire rappresentare in modo esaustivo il soggetto in questo senso il nome proprio del soggetto dice l'account è assente nel luogo dell'altro allora questa assenza è quella che valorizza Sartre secondo me cioè mostrando una irriducibilità del soggetto ad essere significato dell'altro per un verso la vocazione del soggetto se riprendiamo la biografia le parole di Sartre la vocazione del soggetto quindi la vocazione vuol dire il desiderio più singolare del soggetto per usare le parole di Agostino l'intimità più intima del soggetto dice Sartre nelle parole è dettata dall'altro cioè io porto su di me nel mio più intimo la vocazione dell'altro è la vocazione dell'altro che detta la mia vocazione vedete il paradosso importante cioè Sartre tiene conto della lezione di Freud di Marx e dello strutturalismo la vocazione del soggetto è indicata dall'altro è dettata dall'altro Sartre parla di un mandato il soggetto è sempre diciamo risponde se è la risposta ad un mandato è la risposta inconscia io aggiungerei ad un mandato o ad un fantasma che è il fantasma dell'altro ma a partire da questa condizione di a sujet appunto di a soggetto il soggetto porta con sé sempre la possibilità di una di una ripresa di un movimento come dire di deviazione qui si potrebbe evocare Althusser lo fa perché anche in Althusser noi vediamo un percorso simile a quello di Sartre a quello di Lacan per certi versi nell'ultimo Althusser quello diciamo pubblicato dopo la morte ho in mente un piccolo saggio intitolato Il materialismo aleatorio dove Althusser recupera la grande lezione presocratica dell'atomismo per mostrare che in un universo fatto di necessità che è appunto la caduta perpendicolare degli atomi non c'è alcuna possibilità di dare forma singolare alla vita se non attraverso appunto un cliname una deviazione quindi uno spostamento irregolare un'eresia per certi aspetti il cliname la deviazione all'interno di un universo di necessità è la prima forma diciamo la prima configurazione che assuma l'eresia e qui arrivo al mio tema insomma che è un tema che attraversa anche libri diversi da questo come il complesso di Telemaco che è stato citato che è un grande tema della psicanalisi soprattutto di Freud è il tema dell'eredità cioè in fondo si tratta di pensare l'infanzia a partire dall'eredità come qualcosa che investe l'avvenire più che l'acquisizione appunto di beni di rendite di geni quindi l'acquisizione passiva di ciò che è già accaduto ma l'eredità è come se si dovesse compiere in un tempo avvenire allora su questo punto dell'eredità dell'avvenire dell'eredità come eresia fatemi ricordare questa formula citatissima di Freud che veramente ha un carattere testamentario perché è l'ultima frase si dice di Freud che chiude il compendio di psicoanalisi che è un'opera che rimane tra l'altro incompiuta dove Freud citando Goethe dice appunto se vuoi ereditare davvero quello che i tuoi padri ti hanno lasciato devi saperlo riconquistare ecco questo movimento di riconquista è secondo me il petit décalage che non significa appunto semplicemente risignificare il passato ma è una sorta di assunzione del proprio destino mi verrebbe da dire così per provare a tradurre meglio questa formula che rischia di essere un po' metafisica assumere il proprio destino voglio tornare rapidissimamente sul concetto di infanzia lo sforzo di questo libro in fondo è ripensare l'infanzia la psicoanalisi ha pensato con Freud già l'infanzia come uno stadio evolutivo come l'alba della vita diciamo così destinata ad essere superata secondo un aufebung secondo una concezione dialettica dell'evoluzione per cui appunto l'infanzia la preadolescenza l'adolescenza la maturità la vecchiaia come gradini di una scala diciamo dove il termine aufebung bene descrive questa teleologia progressiva la tesi di Sartre invece qual è? che l'infanzia è l'inassimilabile l'irriducibile è ciò che ci costringe costantemente a ritornare a passare da sempre dagli stessi punti diciamo sono quelli tracciati dalle parole proiettile sono quelli tracciati dai significanti traumatici ladro idiota dai significanti dell'altro che ci costringono ogni volta a ripassare da lì ma ogni volta a ripassare in modo nuovo allora quando Bruno nel suo primo intervento mi chiedeva ma cosa accade di tutto questo nella pratica della psicoanalisi beh accade che per esempio quando un paziente parla del suo passato non parla mai di qualcosa che è già stato e che è come un blocco inerte alle sue spalle non descrive cioè la parola è psicoanalisi non designa non descrive qualcosa che è qualcosa che già esiste a prescindere dalla parola diciamo così la parola non si limita a disegnare un essere che esiste a prescindere dalla parola ma nella misura in cui la parola nomina se volete questo è quello che nel mio lavoro sulla Bibbia ho isolato come il primo grande debito della psicoanalisi rispetto alla Torah perché nella Torah la parola è innanzitutto luce cioè l'evento che rende possibile l'esistenza delle cose non è la funzione che nomina le cose questo mi pare un punto essenziale in funzione campo Lacan riconosce questo debito con la Torah cioè l'esperienza della parola in psicoanalisi non può essere schiacciata ovviamente né sulla pragmatica della comunicazione né può essere ridotta un atto di designazione perché è fondamentalmente un atto di rivelazione per cui quando un paziente parla del proprio padre per esempio della propria infanzia fa esistere padri differenti infanze differenti è chiaro che il suo discorso è calamitato da alcuni significanti che noi definiamo con Lacan i significanti maître dei significanti guida dei significanti che come dire come dei pesi gravitazionali orientano la costituzione del discorso di un soggetto che sono riconoscibili no? per esempio nella nell'esperienza analitica comune dell'associazione libera in cui l'analista invita il paziente ad associare liberamente noi vediamo sempre che l'associazione libera come Lacan dice in più occasioni non è mai libera perché l'inconscio porta il soggetto costantemente a far ruotare il suo discorso inconsciamente attorno ad alcuni significanti pivot che sono appunto le parole proiettile i traumi i significanti assemantici la lettera insomma Lacan nomina in modo diverso questi punti che si ripetono come centri gravitazionali all'interno del discorso del soggetto ecco quindi la parola ha da una parte è calamitata a ritornare sempre intorno agli stessi punti ma dall'altra parte ha la possibilità di fare esistere questi punti sempre in modo nuovo per cui le estasi del piccolo Gustave le sue ebetudini il suo perdersi nella natura il suo sentimento di smarrimento il suo confondersi con la vegetazione o con gli animali la sua come dire incapacità di parlare il suo essere separato dal mondo tutto questo è in stretta continuità con il lavoro dello scrittore il lavoro dello scrittore non è l'emancipazione da questo mondo ma è la sua radicalizzazione per Flaubert l'arte l'arte è un antimondo l'arte è un'uscita dal mondo l'arte pone il soggetto come era il bambino perso nelle sue estasi appunto perdersi nella sua scrittura la sua scrittura è ciò che fabbrica un mondo separato dal mondo ecco questa continuità tra le estasi le ebetudini del piccolo Gustave e l'arte della scrittura la pratica della scrittura è un esempio di eredità come eresia Gabriele ti lascio il tuo turno di parola valuta anche poi se vuoi condensare alcune delle questioni dal momento che ce ne sono almeno 4-5 ne conto siamo stati un po' sommersi dalle domande ma adesso ci arrivo no io devo dire che allora questo è un libro appunto che fa un lavoro complesso e profondo nel senso della stratificazione di lettura su Sartre attraverso Lacan è un libro di come hai detto tu Bruno marinescamente è un libro di teoria hardcore però a me in realtà interessa anche un'altra questione bifida come dire che potremmo spezzare in due secondo me le due cose sono collegate cioè una specie di come dire tentativo di storia esterna di questo libro e non di lettura di questo libro in quanto testo che ha un contenuto che è quello che abbiamo visto così ripeto in maniera sicuramente non esaustiva ma secondo me come dire intrigante e tale per cui la gente che si spera non abbia letto ancora il libro ma ci stia seguendo farà quello che deve ovvero sia appunto questo libro lei ha detto Re Calcati è un tentativo di fare tante cose in realtà che in qualche modo si parlano tra loro a livelli diversi un riposizionamento to cure dell'infanzia in seno come dire alla sua cioè come teodicea della psicoanalisi o appunto un riposizionamento del pensiero di Sartre però c'è un presupposto che appunto è focalizzato su quello di questo di questo autore qua di questo pensatore qua e cioè la sua bignamizzazione volgarizzata cioè noi noi semiologi lo sappiamo bene perché per lavorare siccome il senso è sempre polemico dobbiamo costruirci dei totem polemici che in qualche modo sono dei modelli che non corrispondono mai alla tra virgolette realtà no anche off camera quello che dicevo io contro il cognitivismo è un giocattolino del cognitivismo eccetera quindi in qualche modo Sartre nella storia del pensiero dei manuali ecco è il filosofo della libertà assoluta eccetera 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 un problema che secondo me è centrale nel momento in cui come dire si cerca di fare il lavoro che fa anche lei nelle sue diverse attività cioè di clinico di docente di scrittore diciamo a 360 gradi persona che interviene nel dibattito pubblico ecco come si fa a bypassare per un autore così importante e quindi così sicuramente ricco di interpretazioni contrastanti come lo sono tutti a partire dallo stesso Lacan come si fa a contrastare la bignamizzazione banalizzante che in qualche modo è il totem polemico di questo libro su Sartre ovvero sia è possibile fare quella che tra virgolette non è un termine che piace a tutti non piace a molti forse non piace neanche a lei diciamo come è possibile fare divulgazione quindi far passare far passare certe cose senza dover procedere per slogan frasi fatte riassunti e qua vado alla seconda parte del discorso che derivo da Sartre come figura storica e non solo come pensatore cioè il libro è un libro di teoria in qualche modo Sartre è stato l'intellettuale per antonomasia in una certa fase della storia del pensiero diciamo europeo e sicuramente francese ma direi europeo ecco abbiamo parlato di eredità e di ripartire da come ritorno la spirale di cui abbiamo già parlato cioè del tornare su certi luoghi che non sono assimilati una cosa che mi ha stupito diciamo che mi ha intrigato è capire ecco non solo a livello teorico ma qual è il possibile debito oggi di una persona che di fatto fa mutatis mutandis però è esattamente la stessa la stessa cosa cioè l'intellettuale che interviene e non solo diciamo il docente o il professionista eccetera qual è il debito di un intellettuale pubblico oggi nei confronti di Sartre che è stato l'intellettuale ma che come abbiamo spiegato molto bene quasi in maniera sillogistica è stato un po' archiviato poi leggeremo anche i commenti scusate ma se non spremiamo oggi i recalcati quando ci ricapita o così da questo punto di vista insomma c'è un debito diretto che riguarda proprio la nozione di engagement di impegno qual è la differenza in Sartre l'impegno era profondamente connotato in senso ideologico perché non dimentichiamo il tempo in cui Sartre vive cioè che il tempo della guerra fredda dello schieramento e la militanza sartreana è stata una militanza comunista marxista in certi frangenti molto condizionata dall'ideologia perché nel tempo in cui Sartre ha vissuto era inevitabile doversi schierare da una parte doversi schierare da una parte oggi l'impegno almeno così come io lo pratico come erede di Sartre se mi posso permettere questa formulazione io penso che l'impegno sia un compito dell'intellettuale e anche dello psicoanalista se volete posso distinguere prima quando parlavamo cercavo di distinguere il mio lavoro secondo dei livelli dei piani differenti in cui possono essere rubricati i miei libri ma anche il mio lavoro pubblico può essere distinto in questo senso intanto come psicoanalista io ho fatto di tutto seguendo soprattutto la lezione di Franco Basaglia che non era psicoanalista ma è che è stato uno psichiatra molto importante che è entrato in un colloquio critico con la psicoanalisi e che io faccio sempre studiare nell'istituto che dirigo e che forma psicoterapeuti nonostante noi abbiamo un orientamento lacaniano Basaglia insieme a Deleuze e insieme ad altri autori è un punto di riferimento importante per noi ebbè Basaglia ha messo in discussione la psicoanalisi a partire dalla sua caratterizzazione socialmente etaria e io ho preso sul serio questa indicazione e come si fa a prendere sul serio questa indicazione? Si fa un lavoro per cui si abbattono le tariffe questa è la prima operazione politica che io ho fatto cioè l'abbattimento delle tariffe della psicoanalisi ha significato nel 2003 portare la psicoanalisi nella città attraverso i centri Jonas che è una Ollus oggi abbiamo 35 sedi in tutta Italia due anzi a Torino Telemaco e Jonas dove noi pratichiamo tariffe sociali questo è un atto che traduce un impegno uscire dal nostro splendido isolamento pensare che noi non selezioniamo i pazienti in base al reddito ma che la porta dello psicoanalista come l'account ci ha insegnato deve essere sempre aperta a prescindere dal reddito ha significato fare un'operazione politica quindi inventare un'istituzione che non c'era che oggi forse è unica al mondo adesso lo dico con veramente perché non ne conosco altre cioè le istituzioni orientate dalla psicoanalisi diffuse sul territorio nazionale in questo modo noi a Milano abbiamo 850 pazienti nella nostra istituzione che seguiamo a tariffe sociali ora questa per me è un modo di tradurre l'impegno dello psicoanalista nella città poi c'è un altro modo per cui io parlo nelle sinagoge nelle chiese negli oratori nelle sedi di partito ho diretto una scuola di formazione politica per il PD sono intervenuto nei congressi di psicoanalisi evidentemente nella facoltà di filosofia in quella di lettere cioè portare la parola è un altro modo di tradurre l'impegno anche in televisione allora è chiaro che se tu io ovviamente in televisione ci vado il meno possibile perché dopo i tre anni di lessico il rischio è stata quella di una iconizzazione diciamo brutale che ha dato luogo anche a satire come voi immagino sappiate eccetera che è un prezzo che uno paga per sporcarsi le mani ma questo il rischio qual è? che quando uno poi fa questo attraversamento del rubicone non torna più indietro cioè si fa fagocitare dalla televisione si fa fagocitare dai media e si perde quello che a me salva è la passione per il sapere quindi la passione per la ricerca la passione per lo studio che non è confrontabile a niente diciamo nel senso che non mi interessa il successo mediatico da televisione anzi io dico no a quasi tutti gli inviti che ricevo per andare in televisione diserto costantemente la televisione sebbene però e qui non ci posso fare niente no Sars diceva appunto che la nostra immagine è sempre nelle mani degli altri soprattutto dopo la nostra morte sono gli altri che ci fanno esistere ci bignamizzano ci deturpano ci alienano ci trasfigurano noi siamo sempre nelle mani degli altri e quindi io non mi sono sottratto a questa alienazione che davo come un rischio implicito nell'operare nel dibattito pubblico calcolando anche l'effetto clinico che questo avrebbe potuto avere sui miei pazienti che devo dire io ho cominciato a occupare una posizione pubblica dal 2010 con l'uscita dell'uomo senza inconscio e col fatto che il Censis aveva utilizzato ampiamente attraverso il sociologo Gerita le tesi di questo libro senza citarne la fonte ci fu una polemica promossa da i denomini anni sulle pagine del manifesto poi ripresa la Repubblica insomma in cui io veni evocato come la matrice diciamo nascosta del rapporto del Censis l'Iebi la mia prima notorietà le proposte di collaborazione dal Corriere della Sera e la Repubblica Scelsi Repubblica e cominciò una mia diciamo attività pubblica impegnata ma Jonas era già stato fondato nel frattempo Jonas risale al 2003 quindi aveva già sette anni ecco non so se ho risposto alla domanda di Gabriele ma insomma ho raccontato un po' devo dire gli effetti sui pazienti ecco io non ne vedo per questo continuo sempre dosando molto sia le apparizioni televisive sia altre cose continuo nell'esercizio di questa libertà intellettuale perché non vedo effetti nelle cure se ne vedessi significativi trarrei delle conseguenze ma non ne vedo proprio ecco anche perché come Lacan ci insegna strutturalmente i discorsi sono differenti in un'aula universitaria c'è un regime discorsivo che ti impone alcuni criteri che non è lo stesso quando parlo in una sinagoga o quando parlo alla televisione i regimi discorsivi cambiano la cosa e quindi il regime discorsivo che vige nella stanza dell'analista ha la sua peculiarità propria in cui non posso fare il professore con un paziente è evidente allora il problema qual è? è che in questa rotazione di regimi discorsivi in questa pluralizzazione dei regimi discorsivi bisogna non perdersi bisogna preservare una sorta di baricentro che è un baricentro etico dal mio punto di vista è solo questo baricentro che se volete in termini semiotici è preservare non so se lo dico bene o se siete d'accordo con questa formulazione preservare un punto forte di enunciazione da cui tutti i tuoi enunciati dipendono è il punto di enunciazione che fa la verità di un discorso se mi permettete questa formulazione un po' rapida diciamo allora io cerco di tenere saldo questo punto di enunciazione che riguarda il mio desiderio evidentemente Gabriele io questa è una mia personalissima considerazione credo che questa sia una delle risposte più belle eleganti e ben eticamente orientate che abbiamo avuto in un'ottantina di episodi di semi-boomer questo modo di nucleare la propria pubblicità preservandone il suo preservandone e facendone il cardine il suo strato etico come nocciolo duro le tariffe sociali la dimensione etica e anche la consapevolezza l'enunciazione Bruno e poi vabbè poi ci dà pure la ciliegina sulla torta la petite patisserie non il petit décalage con l'enunciazione quindi la ringrazio personalmente e ho molta stima di lei più di quanto ne avevo già prima con questa risposta adesso io se lei ci dà ancora dieci minuti del suo tempo raccoglierei due tre domande che sono due tre commenti insomma intanto Giovanna Ori corrobora e in qualche modo legittima il suo discorso testefatto dicendo ho avuto modo di frequentare Jonas di Bologna centro interessantissimo di grande efficacia posso dire che corrisponde precisamente a quanto appena descritto dal professore Calcati merci quindi abbiamo una testimonianza diretta poi c'è una domanda sbarazzina ma interessante forse che indulge anche un po' nella morbosità questo è un tema la morbosità che si ha nei confronti dello psicanalista che diciamo il senso comune tende a leggere forse ancora anche per certi versi come lo strizza cervelli cioè come si accorge uno psicanalista che il paziente mente che sta facendo che sta lavorando sulla menzogna perché la menzogna ci diceva Umberto Eco nel trattato di semiotica generale è l'oggetto primigenio primario a cui si rivolge il semiologo perché è manifestazione di possibilità di possibilità di creare discorso volutamente falso quindi il tema della menzogna secondo noi è interessante Liliana chiede un altro tema che se vogliamo è più televisivo ma in qualche modo siamo avvezi cioè ci chiede come si colloca lei rispetto alla forse la più famosa battuta sartriana l'inferno sono gli altri visto che l'altro l'alterità è stato oggetto della nostra discussione oggi ha senso magari parlarne e ancora due forse sempre Liliana ci chiede il ruolo dell'immaginazione nella risignificazione del passato perché lei adotta il termine invenzione lo preleva c'è una corrispondenza forse fra invenzione e immaginazione non lo so e Andrea ci fa riferimento a Merleau-Ponty ci chiede tornando alla critica del determinismo archeologico se la posizione di Sartre può essere considerata come convergente a quella diciamo fenomenologica di Merleau-Ponty c'è fra l'altro lo dico ad Andrea nel libro anche bibliograficamente compare il nome di Merleau-Ponty almeno una volta vado a memoria quindi questa quaterna mi sembra che fossero quattro se la gestisca Ciricami come lo devo fare rapidamente perché finalmente questa sera riesco ad andare a teatro che è una mia grande passione dunque non voglio perdermi lo spettacolo che è un po' anticipato rispetto all'abitudine allora su Merleau-Ponty mi limito a dire questo sì è chiaro ci sono delle convergenze direi che qual è la differenza in fondo che in Sartre prevale una matrice cartesiana che invece Merleau-Ponty cerca di di oltrepassare con radicalità e il prevalere della matrice cartesiana si riverbera nel cosiddetto dualismo sartreano e il dualismo indica per esempio sulla questione del corpo dove ci sono molti contatti con Merleau-Ponty che mentre Merleau-Ponty valorizza l'idea del corpo proprio cioè dell'Aib usserliano diciamo contrapposto al Körper l'idea cioè di una identità esistenziale del soggetto col corpo io sono il mio corpo io sono il corpo vissuto il mio corpo in quanto corpo vissuto tutta la fenomenologia della percezione Merleau-Ponty va in questa direzione Sartre ci ricorda che è vero questo ma che al tempo stesso il corpo comporta un reale inassimilabile è un per sé ma è anche un in sé che nel corpo c'è qualcosa che come dire oltrepassa l'intenzionalità è vero che il corpo è una carne intenzionata direbbe Merleau-Ponty e che l'intenzionalità non può che essere incarnata è il superamento merleau-pontiano del dualismo cartesiano Massa ci ricorda come Freud e come la del resto che in realtà io sono il mio corpo ma anche io non sono il mio corpo io non ho io ho un corpo non sono solo il mio corpo cioè il corpo si rivela nel suo reale refrattario ad una totale identificazione questo in Jean-Luc Nancy per esempio trova uno sviluppo straordinario pensate solo all'idea del battito del cuore è chiaro che io sono il mio cuore che batte ma il mio cuore batte a prescindere da me cioè c'è un reale del corpo che si sottrae all'identificazione esistenziale del soggetto col suo corpo le erezioni del piccolo del piccolo Hans mostrano che nel corpo c'è qualcosa che prescinde dall'intenzionalità che sfugge all'intenzionalità che sfugge al governo non il soggetto che è proprio ma anche improprio no? e qui vabbè sul rapporto immaginazione invenzione no direi che allora in Sart è chiaro che c'è un rapporto perché nelle sue primi lavori sull'immaginario Sart ha una concezione di immaginario agli antipodi Lacan per Lacan l'immaginario è il luogo dell'alienazione della prigione narcisistica dell'incanto feticistico dello specchio per Sart l'immaginazione invece è ciò che rompe questo incanto è la negazione diciamo della realtà quindi è quasi coincidente con la libertà no? in Sart c'è un rapporto molto stretto tra l'immaginazione e la libertà tant'è che l'immaginazione è un termine con il quale Sart esordisce diciamo in filosofia ma che poi ritroviamo nell'idiota della famiglia attraverso la pratica della scrittura che è una pratica di libertà in questo senso no? Poi l'inferno sono gli altri qual è la mia posizione particolare allora io integrerei quantomeno cioè quello che la psicanalizia ci insegna è che da una parte l'altro è un luogo infernale perché è un luogo che ci incatena e introduce asservimento assoggettamento alienazione e quindi in questo senso sarebbe una riedizione dell'inferno sartriano ma noi sappiamo anche che non c'è esistenza senza l'altro questo lo sapeva anche Sartre e che il tema diciamo così profondo che Lacan sviluppa negli stessi anni in cui Sartre scrive Idiota della famiglia nel seminario 20 1972 73 la tesi della inesistenza del rapporto sessuale non so se dico cose che sono così familiari a voi ma insomma la tesi di Lacan è che se è impossibile avere un rapporto con l'altro diciamo così aggiungo poiché l'altro sarebbe un inferno non c'è altra possibilità di avere un rapporto con questa impossibilità di rapporto nessuno di noi può evitare di entrare in rapporto con questa impossibilità di rapporto ecco questa aggiunta che Lacan fa complessifica l'idea dell'inferno allora è impossibile fare essere uno con l'altro inferno ma proprio perché è impossibile fare essere uno con l'altro che diventa possibile avere un rapporto con l'altro anche questo Jean-Luc Nancy la lezione di Nancy è una lezione che ci aiuta a oltrepassare l'idea sartriana dell'altro come luogo infernale cioè nella misura in cui io verifico che c'è dell'incondivisibile nel rapporto con l'altro apro la possibilità di condividere l'incondivisibile e la condivisione dell'incondivisibile è ciò che struttura un rapporto non infernale e sulla menzogna beh integrerei il passaggio di Eco con un passaggio abbastanza simile di Lacan quando Lacan dice parlando del bambino qual è l'esperienza attraverso cui il bambino per la prima volta incontra la sua libertà è quella della menzogna cioè scopre che può mentire e scoprendo che può mentire scopre che l'altro non gli legge tutti i pensieri che non è trasparente dunque c'è una differenza tra il soggetto e l'altro è la menzogna che istituisce la soggettività del bambino è chiaro che mentre un bambino mente e ha diritto alla menzogna e la menzogna è il luogo della sua libertà deve anche poi fare esperienza della differenza tra la menzogna e la verità ora ai pazienti in analisi non è importante che mentano o meno cioè solitamente mentono senza sapere di mentire la menzogna non è un progetto può essere nell'analisi un progetto per esempio io avevo una paziente che rubava i miei libri nella sala d'attesa tra l'altro quelli che mi interessavano di più in quel momento per delle magie junghiane di sincronia e non me lo diceva mentiva un'altra paziente cleptomane sempre nello stesso periodo sempre dedita il furto dei miei libri più interessanti in quel momento per me saliva e mi diceva dottore le ho sottratto essere tempo e dunque per un verso mentiva nel senso che segretamente rubava i libri ma poi aveva anche la forza analizzante di rivelare la verità della sua menzogna in un caso l'analisi finì molto bene nell'altro con un'interruzione in cui persi i miei libri tra l'altro è chiaro che quella che finì bene è la seconda bene la ringraziamo dottore è stato generosissimo speriamo si sia trovato anche lei bene in questo è stato un piacere conoscervi mi hanno parlato molto bene di voi e non si erano sbagliati bene siamo contenti di aver confermato le sue aspettative allora buon teatro arrivederci a presto arrivederci a presto Gabriele mentre il dottore ci saluta noi incogliamo anche l'occasione per salutare l'uditorio che è stato gentilissimo era un po' che non ci facevamo sentire vero Gabri? era un pochino sì non mi ricordo cioè l'ultima puntata era con Floridi era la 79esima ed è stata qualche mese fa non ricordo più sinceramente qualche mese fa magari non so se ok Recalcati è proprio andato via stavo controllando cosa sarà di semi-boomer Gabriela nel futuro mi puoi fare questa domanda perché in realtà non lo sappiamo però possiamo fingere possiamo fingere di stare progettando qualcosa in realtà stiamo progettando qualcosa però non sappiamo cosa è questo il il punto no? qualche qualche cosa salterà fuori non sappiamo bene quando sicuramente questi episodi speciali continueranno a comparire per adesso e avrete nostre notizie quanto prima grazie grazie davvero a tutte e tutti siete state molto gentili a seguirci e ci vediamo quando capita quando capita io saluto come la gelappas ciao ciao ciao